Non lasciatevi rubare la speranza. Queste parole più volte pronunciate dall'amatissimo Papa Francesco sono rimaste scolpite nel cuore di tutti i giovani, anche nei 150 pellegrini della diocesi di Sumonavalva, che stamane alle 6 del mattino sono partiti per incontrare il successore di Pietro. Uniti dalla stessa fede si sono messi in cammino perché l'uomo vestito di bianco li avvicini a Dio e ridesti la loro speranza. Cosa vi aspettate dall'incontro con il Papa? Sicuramente sarà un incontro pieno di gioia e aspettiamo sicuramente con ansia il messaggio che il Papa vorrà darci oggi a noi tutti i giovani. Una delle forti emozioni a un anno dalla giornata mondiale della gioventù. Penso che sia un appuntamento importante anche questo e che possa unire nella fede ancora di più i giovani di Sulmona e di tutta l'Abruzzo e il Molise. Una giornata importante, ecco, un risveglio, una crescita spirituale, una crescita anche a livello individuale ed è un modo nuovo per noi giovani di sentirci più vicini alla Chiesa e la speranza, ecco, la speranza che non muore mai. Questo è il messaggio che vogliamo sentirci dire da Papa Francesco. Che ci dia la speranza di un futuro migliore e soprattutto per noi giovani in un posto dove il lavoro scarseggia e c'è molta, diciamo, delusione anche da parte di noi giovani. Dopo 19 anni un Papa visita il Molise, l'ultimo pontefice a recarsi in questa piccola regione di 300.000 abitanti era stato Giovanni Paolo II due volte, nel 1983 a Termoli e nel 1995 a Campobasso e Agnone. Sono circa 80.000 pellegrini presenti nell'area dell'ex stadio Romagnoli per la Messa di Papa Francesco, curioso l'altare che è stato inserito all'interno di una grande capanna. Il senso è stato spiegato da Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano. Questo allestimento ha voluto ricordare la storica transumanza che per oltre un millennio ha arricchito la terra molisana, una terra che ben conosce l'odore delle pecore, ha ricordato il presule rifacendosi a un concetto tanto caro al Papa, e che condivide le fragilità umane. Un altare di grande significato che si deve a un senegalese, che sul paliotto ha raffigurato un giovane che sta sprofondando nella disoccupazione e nella droga, ma c'è il Papa che li viene incontro. Il lavoro, ha ricordato Papa Francesco, è la grande sfida per le nostre terre. Senza il pane da mangiare non ci può essere dignità.